Perché ha negato tutta la storia? Perché una storia così bella, piena di romanticismo, di momenti meravigliosi e oggi lui o lei negano quello che è stato, fanno finta di non ricordare oppure minimizzano o ancora ti dicono che ti sei inventato tutto. Quando accade questo si è dentro una sorta di gaslighting, di qualcosa dove è proprio una tecnica, una modalità manipolatoria dell'abusante e la vittima di solito in questi casi rimane senza parole molto ferita, molto delusa, si prova un profondissimo dolore e senso di vuoto. Se si è successo, se è capitato anche a te, ti potresti trovare fra le persone che per lungo tempo si fanno ancora la domanda Perché? Perché ha fatto così? Mentiva prima o ha mentito dopo? L'amore che ho provato, che ha provato, era vero o era falso? Allora intanto lascia che mi presenti, sono la dottoressa Teresa Natale, Life and Focus in Coach. Ormai da tempo, attraverso il protocollo creato da me Basta relazioni tossiche, ho aiutato decine di persone ad uscire fuori dalla relazione tossica. Quando parliamo di relazione tossica e di uscire fuori dalla relazione tossica, non ci riferiamo solamente al non stare più con quel partner. Significa aver ormai compreso la relazione, aver capito bene che cosa è successo, quindi anche i livelli di manipolazione. Significa aver elaborato tutte le emozioni, quelle cosiddette negative, quelle di dolore, come possono essere la rabbia, la delusione, la tristezza, il profondo vuoto che si genera, quel senso di abbandono, per poi riaprirsi ad una nuova parte di sé. Per cui possiamo dire di essere usciti fuori da una relazione tossica solo quando veramente siamo di nuovo aperti alla vita con fiducia. Essere aperti alla vita con fiducia non significa vivere di nuovo nell'ingenuità o nell'accontentarsi del primo che passa, oppure nel dare tutto se stessi alla prima persona perché in qualche modo non si vede l'ora di vivere una storia, perché si ha paura di rimanere soli, perché si desidera fare famiglia o per mille altre ragioni. Perché quando si è veramente elaborata una relazione di questo tipo, si è capace di vedere tutti i segnali di una relazione che non funziona e non si ha più fretta di demandare tutta la propria felicità a qualcun altro. Perché diciamoci la verità, quando ci siamo imbattuti dentro una relazione tossica, da qualche parte hai dato all'altro la delega per il tuo star bene. E se hai vissuto veramente una relazione tossica, cioè una relazione manipolatoria, una relazione altamente disfunzionale, ti sei dovuto adattare per lungo tempo alle richieste, al controllo, alle possessività e anche, diciamo così, alle incoerenze dell'altro. Questo sicuramente ti rende oggi una persona con una certa fragilità, sensibilità e anche, se non hai ben elaborato, incapacità di comprendere realmente che cosa è accaduto. Questo è semplice perché accade. Prima di tutto perché la mente, la mente di un essere umano, fa spesso proprio fatica a elaborare quelle delusioni, quei dolori che riguardano se stessi. Perché lavorare su di sé richiede molte volte proprio l'aiuto, il feedback o un gruppo di auto mutuo aiuto, ma un gruppo ben guidato, ben seguito, oppure un lavoro profondo su di sé. Perché queste relazioni non accadono mai per caso. Queste relazioni sono momenti che arrivano proprio perché dentro ci sono degli schemi all'interno della persona, degli schemi come la paura dell'abbandono, quel senso della paura del fallimento, un senso di inadeguatezza, tutto quello che è legato quindi all'autostima, che entrano perfettamente ad incastro con una personalità che può abusare e può in qualche modo prendere il dominio sulla vita dell'altro. Questo può accadere anche se tu sei una persona che professionalmente è molto molto valida e anche volitiva, magari di grande successo. Nella sfera però privata potrebbe esserti capitato. Le relazioni tossiche, come sempre lo dico, non riguardano solo la sfera amorosa, ma possiamo averle nel campo, ad esempio, professionale. Mi capita tantissimo di aiutare le persone a rimettere ordine dopo aver vissuto qualcosa di altamente doloroso e frustrante, direi, e che dà anche un grande senso di impotenza proprio nell'ambiente di lavoro. Allora, quello che facciamo oggi è partiamo proprio da quella domanda iniziale. Perché? Perché sta negando tutto. Quando noi parliamo di questo tipo di soggetti manipolatori, noi dobbiamo capire che una delle modalità che hanno è proprio quello dell'entrare o in una dimensione di estrema vaghezza, cioè diventano vaghi quando tu li parli, non affrontano il tema, per cui magari tu gli dici, ma non ti ricordi che mi hai detto questo, ma le promesse che mi hai fatto, qualsiasi cosa, le cose che ci siamo detti, e l'altro diventa vago, oppure cambia discorso. Oppure ancora più, diciamo così, ancora più difficile da sostenere è la negazione. Cioè l'altro ti dice, ti stai inventando tutto. Io non ho mai detto niente del genere. Io non l'ho mai fatto questa cosa. Ma sei tu che hai pensato questo? Qua siamo proprio dentro alcune componenti di quello che poi, ad un livello più ampio, viene definito gaslighting. Con questo termine, ho fatto anche dei video, puoi andare a vedere il video sul gaslighting, però un piccolo accenno anche in questo. Il gaslighting è una tecnica manipolatoria che è tipica, prende il nome, ha questo nome, questo inglesismo, ma perché prende il nome da un film in inglese, Gaslight, dove il marito, attraverso una serie di modalità, ingrandava la moglie, rendendola e portandola quasi ad una sensazione di follia. Con questo abbassare costantemente all'epoca, diciamo così, l'olio per illuminazione della stanza, e tante altre piccole sfumature, che portavano la donna ad essere sempre più insicura di sé. Quindi ti portano a non essere più sicuro neanche dei tuoi ricordi. Quando vieni sottoposto per lungo tempo ad un'operazione di gaslighting, entri e diventi facilmente, appunto, entri facilmente in una situazione di dissonanza cognitiva, ma più di tutto puoi andare estremamente in stress e il sistema nervoso può subire delle influenze importanti, quindi alti stati di stress, di incomprensione, di distaccamento anche dalla realtà. Cioè, diventa per te difficile capire che cosa sta realmente succedendo nella tua vita. Guardo ogni tanto in basso, solamente perché ho segnato degli appunti. Quello che abbiamo, quindi, questo, i perché, tutti quei perché che arrivano, arrivano proprio perché dentro di te hai tutto un ricordo di quella che è stata la luna di miele nella fase del love bombing, dove tutto era perfetto. Quindi, ti sentivi dentro una relazione perfetta, dove finalmente avevi trovato quello che hai sempre desiderato, ti sentivi capito, amato, come mai prima, perché di solito chi manipola è molto bravo a comprendere i bisogni dell'altro e poi li usa per potersi avvicinare e così abusare della sensibilità dell'altro. È tutto, molte volte, è studiato proprio a tavolino, c'è un senso di piacere nel vedere soffrire poi l'altro, molte altre volte questi soggetti non sono così consapevoli, cioè sanno che non stanno facendo qualcosa di buono, sanno che possono fare del male, ma non hanno piena consapevolezza del dolore che arrecano. Altri ancora assolutamente non si rendono conto di nulla, quelli sono proprio i più inconsapevoli. Però quando si entra invece nella psicopatia grave sono soggetti che sanno che fanno del male e anzi provano anche piacere nel dolore dell'altro. Lì c'è proprio un appagamento profondo di loro stessi. La maggior parte sono un po' quelli del secondo gruppo, cioè quei manipolatori che sanno che hanno dei comportamenti discutibili, li negano anche a se stessi, però non capiscono bene, non sentono il dolore dell'altro, per cui poi si autoraccontano un'altra storia, la raccontano anche a loro stessi. E' come se si preparano per qualche altra storia. Poi non sono tutti uguali, abbiamo tantissime sfumature di personalità in combinazione diversa, con più sfumature diverse. Un giorno farò magari un video dove mettiamo insieme più personalità e lo vediamo insieme. Quando io lavoro nel percorso di bassa relazioni tossiche, che è il mio protocollo, è proprio stabilito su tre livelli, che sono conoscere e sentire il credere. Quando lavoriamo sul conoscere, la persona che lavora con me ha la possibilità di comprendere bene tutti i primi effetti di manipolazione, per cui conoscere inizia a salvarti, perché inizia a vedere l'altro per com'è veramente, non per come lo avevi idealizzato all'inizio. Per cui facciamo tutto un lavoro di uscita fuori dell'idealizzazione, se c'è anche uno stato di non comprensione chiara di quello che è accaduto, della realtà di quello che si è vissuto, si comprende, riusciamo veramente a capire fino in fondo, e contemporaneamente impari un giusto dialogo con questi soggetti. Ad esempio, se tu ti trovi in un ambiente lavorativo con questi soggetti, devi imparare a parlare nel modo giusto. Uno degli errori più grossi che vedo è la comunicazione. Uno, quando lavori con questi soggetti. Due, quando magari hai avuto dei figli con questi soggetti, per cui sei costantemente ancora in rapporto con l'altro. Oppure, nei casi in cui tu abbia delle amicizie di questo tipo, o anche se ti sei separato, anche se non hai dei figli, in qualche modo non hai potuto ancora dividere completamente la tua vita. Quindi magari dividi l'appartamento con questa persona. In questi casi è indispensabile capire come bisogna parlare con questi soggetti. Però, per poi attuare una buona comunicazione, una parte più alta del lavoro è quella di lavorare sulle tue emozioni. Perché se tu non hai mai lavorato sulle tue emozioni, quindi non hai una cattiva gestione di quello che passa, potresti sempre essere stimolato in un momento di rabbia a reagire. Invece noi dobbiamo arrivare a non reagire più. Devi riuscire a scegliere cosa dire e come dirlo. Cosa dire e come dirlo. Per fare questo, devi imparare a gestire benissimo le tue emozioni e devi capire come funziona la manipolazione e capire come si parla con i manipolatori. Perché è una comunicazione completamente diversa rispetto ad altri soggetti. Che cos'altro ti voglio dire? che quando appunto si fanno questi, sul primo livello questo del conoscere, insieme al sentire, quindi questi due livelli si agganciano, no? Il sentire è tutto quello legato alle emozioni, come ti ho detto prima, devi capire, sentire, gestire le tue emozioni. E poi il credere, cioè riprendere in mano completamente te stesso, lavorare sulla fiducia che tu hai di te, sull'apertura del cuore, in maniera che tu possa affrontare con gambe salde, a livello metaforico, l'altro, la vita, l'altro e tutto ciò che ti si ripresenta, no? Per cui, se sei nell'ambiente di lavoro, poter affrontare con forza, determinazione, serenità, quello che accade e ti posso assicurare che l'ho fatto, sto guidando un paio di persone nell'ambiente lavorativo e hanno ottenuto dei grandissimi risultati, persone che si erano annichilite, che non comunicavano mai le loro esigenze, una di queste era stata anche messa da parte a livello di carriera, invece si è ripresa il suo posto, per cui si può fare un ottimo lavoro, però dobbiamo iniziare a capire che cosa significa uscire fuori da una relazione tossica, non significa solo ah, con quella persona non ci parlo più, ah, ma tanto non fa parte della mia vita, ad esempio nell'ambito lavorativo, ah, ma poi quando io sono per i fatti miei non ci penso, per me di tutto non è vero, perché questo tipo di relazioni ve le portate a casa, ma anche se appunto invece siamo nella relazione amorosa, dire ah, sono fuori dalla relazione tossica perché ho chiuso con questa persona, molte volte non è così, e lo so perché arrivano persone da me che hanno chiuso la relazione, quindi non stanno più con quel partner da due, tre, quattro anni, a volte anche di più, ma fanno fatica a ricominciare una vita con serenità, cioè hanno sempre un grande tormento dentro, e questo è perché non si è fatta una giusta elaborazione. Il punto centrale di tutto questo è legato proprio alla ricostruzione uno del mindset, cioè di andare oltre quell'aspetto di romanticismo, se è stata una relazione amorosa, c'è un aspetto di romanticismo che dobbiamo rielaborare completamente, se è invece una relazione professionale, bisogna rivedere proprio tutte le aspettative e tutta la tua modalità di probabilmente estrema disponibilità, condiscendenza o insicurezza generale che hai mostrato negli ultimi anni o nei mesi in quel luogo di lavoro. Oggi ho un po' affrontato in parallelo professione e lavoro, professione e amore, perché sono, diciamo così, le esperienze più dolorose che io tratto. Poi ho potuto aiutare anche persone che hanno avuto esperienze con familiari e anche lì il lavoro è molto intenso e richiede abbracciarlo in una modalità che riguarda sempre questo conoscere bene tutto, il sentire, quindi un'elaborazione profonda delle tue emozioni, delle tue ferite e poi rinascere completamente, perché quando le relazioni tossiche sono nell'ambiente familiare lasciano proprio del, come se lasciassero delle crepe, no? In quello che è il tuo corpo e emotivo. Bene, spero che questo video ti possa aiutare a capire il perché. Il perché, quando tu ti dici sempre ma perché, perché mi è successo, mi amava, non mi amava, io questo nessuno te lo può dire, perché chi ti dice ma no, guarda che ti amava, ma no, guarda, ritorna, ma questo non lo si può sapere, non è vero che ritornano sempre. A volte amano, certo, a volte provano, ci sono anche manipolatori o relazioni tossiche dove l'altro ha anche provato qualche sentimento, ma l'incoerenza, l'illogicità di quel tipo di processi mentali di questi soggetti fanno sì che rientrano sempre nelle loro dinamiche, sono proprio delle dinamiche che queste persone hanno e più che chiederti continuamente perché lo ha fatto, ma mi amava o non mi amava, devi chiederti veramente come posso adesso chiudere con queste emozioni, con queste domande, come posso di nuovo riprendere in mano la mia vita. Allora lì incominciamo a capire che è arrivato il momento di distaccarsi veramente dal pensiero dell'altro perché fino a che sei lì che ti chiedi perché, perché, perché mentiva, non mentiva, perché negano, lì anche se lui è lontano, lui o lei sono lontani mille e miglia da te o se anche se è il tuo datore di lavoro, insomma l'ambiente di lavoro in cui lavori più o meno lo gestisci, anche se io difficilmente ho visto che le persone riescono a gestire questo rapporto professionale complesso se non fanno veramente dei salti importanti in loro stessi. Quindi anche se hai una serie di condizioni a tuo favore fino a che ti continui a chiedere perché, perché, perché in realtà è come se continuassi a tenere un laccio all'altra persona. Quindi ti sembra di essere lontano ma in realtà sei sempre lì. Quindi dobbiamo iniziare a chiederci come posso interrompere tutto questo. Se questo video ti è piaciuto metti un like e iscriviti al canale è molto importante e ci vediamo presto per altri video sulla relazione tossica. Ciao!